in questa puntata parco di migliarino san rossore massaciuccoli approvato il bilancio 2021 sanità approvato il bilancio di arts arezzo calcio femminile premiato dal consiglio regionale le opere di marco borgianni diario di un viaggio l'aula ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 dell'ente parco regionale delle alpi apuane con 22 voti a favore e 11 contrari la comunità del parco composta dai rappresentanti delle province dai sindaci dei comuni i cui territori sono compresi nel territorio del parco ha espresso parere positivo sul conto economico così come il collegio dei revisori pur sottolineando il ritardo con il quale è stato presentato innanzitutto bisogna rilevare il ritardo notevolissimo con cui questi atti giungono all'approvazione nelle aule del consiglio regionale della toscana un tema che già di per sé giustifica la bocciatura da parte del gruppo della lega di questi atti che ripeto giungono con un ritardo di almeno un anno se non superiore a quello che sarebbe la fisiologica procedura dell'approvazione di questi documenti oltre questo ragionamento il gruppo della lega ha messo in evidenza il fatto che forse il sistema dei parchi regionali andrebbe ripensato andrebbe ripensato perché c'è una diminuzione dell'investimento dell'impegno economico da parte della regione toscana che fa pensare anche dal punto di vista dell'approccio che la regione toscana intende dare a questi riferimenti così importanti per quanto riguarda il nostro territorio che si va ad aggiungere in un quadro già di difficoltà perché il venir meno delle province aveva già di per sé ridotto quello che era l'impegno economico e che ulteriormente aggrava un'altra questione sul quale sono intervenuto a più riprese durante la discussione sia in Commissione Quarta che in Consiglio regionale e che è la difficoltà dei versamenti delle quote da parte dei comuni che fanno parte della comunità del parco. La valutazione è sbalorditiva perché dopo diciamo sempre le stesse cose arriviamo sempre in ritardo viene approvato un bilancio che doveva essere approvato un anno fa e la cosa che mi risulta un po' strana è che dall'accesso atti che avevo fatto anche sui documenti relativi ad un concorso che aveva portato alla selezione e all'assunzione di una nuova persona in amministrazione vengo adesso a sapere che hanno necessità di un'altra persona quindi mi pongo un po' di dubbi sulla validità di quel concorso. Sono cose che dovrebbero essere approfondite sicuramente la regione toscana non può continuare ad approvare bilanci in ritardo di tutti i suoi parchi dovrebbe veramente porci un pensiero, una attenzione, una programmazione e arrivare a valorizzarli perché altrimenti così sono solo organismi che non servono praticamente a niente servono solo a perdere dei soldi e quindi bisogna prendere una decisione o si finanziano o si cambiano le persone perché qualcosa vuol dire che non funziona Noi vogliamo verificare una cosa che verificheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane c'è un patto tra il Quirinale, quindi la Presidenza della Repubblica e il Parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore che riguarda la tenuta di San Rossore che è all'interno del Parco e prima la tenuta del Presidente della Repubblica che prevedeva che il Quirinale versasse alla regione toscana per la gestione della tenuta 4 miliardi e 200 milioni di vecchie lire l'anno che equivalgono a 2 milioni di euro in realtà la regione toscana versa al Parco circa 800 mila euro l'anno quindi noi vogliamo capire se quei 2 milioni continuano ad arrivare dal Quirinale e poi la regione li trattiene anziché per San Rossore nella pancia del bilancio regionale oppure se quei soldi non arrivano, quindi vogliamo capire meglio questa vicenda intanto la segnaliamo ma stiamo facendo gli atti opportuni per poterla mettere in maniera più decisa alla luce della pubblica opinione Abbiamo approvato il consuntivo 2021, un consuntivo che riguarda un anno in cui c'è stato il cambiamento della Presidenza il Presidente Bani è subentrato con la nuova rappresentanza della Comunità del Parco a luglio quindi è un bilancio a cavallo fra mandati diversi, presidenze diverse in ogni caso è un bilancio che chiude inutile e segnala credo già un primo cambiamento di passo perché se leggiamo le cifre, i dati del bilancio vediamo come i ricavi dalle attività legate a quanto si svolge nel territorio del Parco, attività agricole, zootecniche e di valorizzazione comunque delle produzioni che nel Parco si sviluppano è aumentato è chiaro che il Parco ha potenzialità enormi che devono ancora e maggiormente essere valorizzate e sviluppate ma credo che la Presidenza Bani per questo stia dando segnali importanti di dinamismo apportando anche nuove idee che nel futuro prossimo sicuramente faranno fare al Parco un salto di qualità La situazione dei tre parchi regionali non ci soddisfa per niente anche il Parco della Puane per stessa ammissione del Direttore ha le risorse appena sufficienti per, cito testualmente, la mera sussistenza della struttura non c'è un piano che guardi al futuro, ci sono grandi difficoltà sotto il profilo degli investimenti realizzabili e questo naturalmente mette in difficoltà non soltanto l'aspetto della promozione e della valorizzazione di territori comunque straordinari ma anche per esempio la capacità del Consiglio di capire fra gli obiettivi e i risultati che rapporto c'è non si capisce quante persone stanno andando nei parchi, quali servizi trovano come questi si pongano a livello nazionale all'attenzione di tutta la nostra popolazione quindi il nostro è un giudizio negativo che non colpisce naturalmente la struttura in quanto tale di cui è apprezzabile anche lo sforzo ma colpisce invece la Regione che si sciacqua la bocca a parole di investire sull'ambiente ma che in realtà nella sostanza sta lasciando i parchi morire lentamente senza un coordinamento fra loro Via libera del Consiglio regionale al bilancio preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia regionale di sanità L'Aula si è espressa a maggioranza con 19 voti a favore e 11 contrari sulla richiesta di parere al Consiglio regionale e sull'assegnazione di risorse finanziarie per l'esercizio 2025 L'Agenzia regionale di sanità è un punto di riferimento per tutti gli operatori per la politica, direi anche per i cittadini basta andare sul sito e vedere gli innumerevoli lavori che producono continuamente i ricercatori che fanno capo all'Ars un punto di riferimento perché quando si parla di sanità è necessario partire dai dati, è necessario partire dalle analisi e quelli che l'Ars fa sono un punto fondamentale che noi abbiamo usato anche quando abbiamo fatto il percorso degli stati generali della salute se no si rimane alle opinioni e invece le discussioni politiche vanno fondate sui dati Dunque, l'Agenzia di sanità è una valutazione positiva perché è un ente tecnico che dovrebbe risolvere dei problemi che la politica pone evidentemente però non vengono posti in maniera adeguata se il risultato è una sanità di questo genere dove si dice tutto il contrario di tutto naturalmente essendo il bilancio di Ars un'emanazione diretta della Giunta è ovvio che noi non partecipando quindi alla stesura e comunque alle scelte programmatiche non potevamo che votare contro Il Consiglio regionale della Toscana ha premiato la squadra imbattibile dell'Arezzo Calcio Femminile che nella stagione 2021-2022 ha vinto il campionato di Serie C senza mai perdere una partita con una targa per l'impegno profuso nella massima condivisione e crescita dell'intero movimento del calcio femminile italiano Questo è un premio all'impegno alla passione, alle competenze a chi ci ha creduto, ci crede e continua a crederci i risultati della squadra femminile di Arezzo sono davvero incredibili risultati che li portano in Serie B e li portano sugli onori della cronaca proprio per il percorso che è stato fatto è bello che sia stato realizzato anche un videodocumentario che racconti e trasmetta un messaggio un messaggio positivo, un messaggio di speranza credere nei propri sogni e con l'allenamento con l'impegno, con la passione questi sogni possono essere raggiunti Allora, c'erano tutti buoni propositi avevamo grandi obiettivi e forte ambizioni serve molto in questo sport una forte ambizione quindi ci aspettavamo sì ma il risultato che poi abbiamo ottenuto è stato veramente maggiore rispetto alle aspettative ma la ricetta è lunghissima, la formula non esiste una matematica nel calcio come sappiamo ci sono tante cose che possono andare non proprio come calcolato diciamo che l'anno scorso è stata veramente una cavalcata incredibile perché l'imbattibilità e tutta una serie di risultati ci ha permesso veramente di coronare un'annata perfetta la squadra, le ragazze, le singole ma poi il gruppo ciò che viene poi dopo creato attorno allo spogliatoio tutto insieme ha portato questo grandissimo risultato ringrazio tutti per l'invito, per noi è un onore è anche una cosa bellissima perché sappiamo bene quanto sia importante per il calcio femminile tutto questo sta crescendo molto e se noi abbiamo potuto fare qualcosa seppur piccolo però comunque grande siamo liete di essere anche qui presenti per questo invito il messaggio sicuramente per le ragazze è di seguire le proprie passioni non farsi abbattere da chi magari gli può dire che non sia lo sport giusto perché non esiste lo sport giusto se questa è la tua passione è giusto seguirla per i ragazzi cercare di essere un pochino magari più tolleranti verso le loro colleghe donne, diciamo così 40 opere in mostra a Palazzo Malaspina alcune delle quali inedite raccontano il lungo cammino artistico del maestro di Vico Delsa scomparso lo scorso anno Marco Borgiani di Aro di un viaggio a Barberino Tavarnella è la prima retrospettiva dedicata al maestro gentile Marco Borgiani è stato un fine esploratore dell'arte senza tempo nei confini un viaggiatore mai uguale a se stesso in continuo movimento diretto al superamento di ogni barriera culturale e sociale una mostra che è un omaggio ad un artista che ha voluto rappresentare così bene il proprio territorio ringrazio il collega Massimiliano Pescini per aver voluto qui poter presentare questa bella mostra che avrà luogo a Palazzo Malaspina nelle prossime settimane investire in arte, investire in cultura vuol dire investire in libertà e quando arte e cultura riescono a rappresentare il proprio territorio vuol dire investire in libertà e in identità e credo che questo sia il senso più importante di questa mostra e poi i legami familiari che si uniscono il figlio che oggi è anche il curatore della mostra un territorio che accoglie queste opere insomma c'è tutta la bellezza della nostra terra e quindi spero davvero che sia una mostra molto visitata e che arrivi al cuore delle persone è stata una grande emozione preparare questa mostra perché racchiude l'80% del suo lavoro e quindi ne siamo molto felici di farlo lui penso sarà orgoglioso e felice di questo evento Marco ha lavorato santo, tanto santo, fin da bambino e poi ha continuato negli ultimi diciamo 30 anni a dividere il suo lavoro in cicli pittorici iniziando da Parigi un reportage della città di Parigi vista non come diciamo così palazzi oppure opere pubbliche ma vista tramite i personaggi che la animano è stata una cosa molto emozionante naturalmente essendo il figlio e quindi ho curato la mostra fin dall'inizio ho curato la mostra e il libro e ripercorso un po' tutti i periodi perché la mostra in qualche modo si suddivide in cicli quindi si parla di non solo di sculture è stata un diciamo una parte molto importante dell'arte di Babbo però anche tutti i vari cicli che vanno dal 1990 ad oggi fino ad arrivare a Dei, De Roi che è l'ultimo ciclo che in qualche modo è il ciclo più importante che è quello che che l'ha consacrato un po' anche come artista insomma è stato un po' anche come artista